Un cordiale saluto, un bentrovati da Nikos di Trebi Meteo. Chiusi i rubinetti atlantici, nel corso di giovedì l'alta pressione garantirà bel tempo prevalente su tutta l'Italia. Una bella giornata anche per il sud, anche qui aumento di pressione perché ormai la zona di bassa pressione di avvio settimana di lunedì e martedì si sarà allontanata sulla penisola ellenica. Una giornata con ampie aperture del cielo, ce lo confermo alla prossima grafica, guardate voi cieli sereni o al più poco nuvolosi, vi segnalo solo al nord qualche velatura, stratificazione ovvero le classiche nubi alte di passaggio ma senza effetti. E infine l'ultima grafica ci conferma una bella giornata sull'Italia con ampie aperture del cielo solo dalla serata, nubi più compatte sulla Valle d'Aosta e sulle Alpi piemontesi. Temperature che proprio al centro-sud saranno in lieve aumento supereremo i 12-14 gradi ovunque. Dettagli maggiori sull'app gratuita di Trebi Meteo.